Ma darmo sempre la bistecca dopo la donazione. Un'iniziativa molto importante che parte per il mese di novembre è quella della donazione in rosa. Esatto, è da tanti anni che nel mese di novembre celebramo la donna, la donna intesa sia come generatrice di vita che attraverso il gesto della donazione di sangue genera nuovamente vita. E quest'anno per dare nuova linfa vitale a questa preziosa iniziativa abbiamo richiesto una collaborazione alla Lilt, che è la Lega Italiana lotta contro i tumori, proprio perché a ottobre sappiamo tutti che è il mese della prevenzione contro il tumore al seno e per continuare a mandare questo messaggio positivo abbiamo deciso di collaborare con loro proprio perché abbiamo richiesto all'associazione la possibilità di offrire a tutte le donatrici, non solo quelle di Avis Fano, ma di tutte le Avis che vertono sul centro trasfusionale della nostra città, di poter usufruire di una visita senologica gratuita, proprio perché sappiamo tutti quanto importante sia la prevenzione. Grazie al presidente della sezione di Pesaro Urbino, il dottor Vincenzo Catalano, siamo riusciti appunto a stringere questo bel legame e riuscire appunto a regalare alle donatrici questa bellissima opportunità. Rilasceremo un tagliandino, quindi un buono, così come quando vengono a donare i donatori che rilasciamo il buono colazione, in questo caso troveranno i contatti dell'associazione stessa proprio per prendere poi un appuntamento e ci hanno dato una disponibilità fino a settembre 2020, quindi tutte le donne da qui per tutto il mese di novembre riceveranno questo buono e poi dopo potranno contattare direttamente l'associazione, quindi la Lilt, e prendere appuntamento con loro per questa importante visita. Grazie. 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 Grazie.